Fabio e Filippo, che cosa avete creato e come sta andando? Abbiamo creato un computer a basso consumo energetico, abbiamo tentato di creare qualcosa di nuovo, dare un design ecosostenibile ad un qualcosa di vecchio. Abbiamo tolto quello che è il cassone generico del computer, con la ventola che crea polvere sotto la scrivania, che crea disagio, insomma, e l'abbiamo sostituito con questo. Alle nostre spalle c'è il prototipo, che è proprio il prototipo zero di Atmo, che cerca di integrare ecosostenibilità con l'innovazione. Innovazione perché? Perché è stato creato tenendo ben presente quali sono le nostre necessità energetiche, nel senso che Atmo consuma un quinto rispetto a un computer normale, consuma un quinto e quindi questo ci permette già di risparmiare sulla bolletta elettrica. In termini di costi Atmo consuma circa 30 euro all'anno, tenendolo acceso sempre e continuamente per tutto l'anno, 365 giorni, 24 su 7. Un computer normale consuma circa 130 euro, un computer da ufficio intendo. Innovazione perché? Perché Atmo, nella sua scocca, monta una piantina, che è una peperomia. Questa peperomia viene riscaldata da Atmo e con la luce del sole, ovviamente, fa partire il processo di fotosintesi che libera ossigeno nell'aria. Inoltre, la parte sopra, questa parte qua, può essere utilizzata come bruciessenze, perché lo scarico del riscaldamento di Atmo viene proprio sotto da qui, riscalda i sassetti e libera con tre gocce di profumo, preferito come a voi, può diventare anche un bruciessenze. Filippo, che lavoro è stato? È nato così quasi per gioco perché un giorno abbiamo provato a mettere in pratica quello che era la nostra idea, diciamo, e allora utilizzando sempre comunque del legno di risulta, legno che io come falegname non avrei più potuto riutilizzare per altri lavori perché è inutilizzabile, appunto, abbiamo provato a cercare di fare star dentro questo computer e di creare qualcosa che fosse anche bello da vedere, da mettere in casa, da tenere comunque tranquillamente in salotto. e appunto il nostro obiettivo è quello di usare del materiale di scarto, di non andare a fare ulteriore impatto, diciamo, sull'ambiente utilizzando del legno nuovo.